Seconda contro terza di fronte al comunale di Chiavari e sfida ad alta quota nel girone A di prima divisione con il Carpi che sfida la Virtus Entella. Subito pericoloso il Carpi con la conclusione della distanza di Ferretti. Nessun problema per Paroni che blocca a terra. La risposta della Virtus Entella un minuto più tardi con il cross da destra di Decolle. L'inserimento sul primo pallo di Guerra. Pallone alle stelle, quello calciato dall'ex attaccante della Piacenza. Passano altri 60 secondi e il Carpi diventa pericoloso con l'azione di Cabin che va alla conclusione con il sinistro dal limite. Pallone che esce di niente rispetto alla porta della Virtus Entella. Alza i giri del motore il Carpi da una rimessa laterale. Nasce l'azione di Ferretti che cerca la girata bloccata senza difficoltà dal portiere Paroni. Ventunesimo minuto attacca la Virtus Entella sulla corsia di destra. Si inserisce Decolle ma il suo inserimento viene eletto. Non così quello di Guerra che sfiora il gol su assist al volo di Vannucchi. Pallone fuori di niente brivido per Sportiello. Tre minuti più tardi ci prova ancora Igli Vannucchi. Attento Sportiello che si rifugia a mani aperte in calcio d'angolo. Il talento di Igli Vannucchi al comando per la formazione bianco-azzurra di casa. Ci prova anche Staiti su sviluppo di calcio di punizione. Pallone che accarezza all'esterno della rete. Palla sul fondo. Trentacinquesimo minuto attacca il Carpi con questa iniziativa e la conclusione di Ferretti. Evidente il tocco di mano di Cesar anche a distanza abbastanza evidente da Ferretti. Ma l'arbitro lascia proseguire. Attacca il Carpi sulla corsia di sinistra. Pallone per Cabin e Paroni. Si rifugia in calcio d'angolo. Buona l'azione Cortesi-Cabin. Sugli sviluppi del tiro della bandierina. Prende la linea di fondo di Gaudio. Il cross in mezzo sul secondo palo. E arriva la zampata vincente sotto misura di Poli per la rete dell'1-0. Il secondo tempo dopo il gol di Poli su assist di Ferretti. La Virtus Entella cerca subito la reazione. Esce Marchi, entra rosso. Questa è la decisione del tecnico Prina della Virtus Entella. Una sostituzione che si rivelerà importante nell'economia del match. Ci prova il Carpi su calcio di punizione con Ferretti che cerca il bis della impresa, della prodezza, contro il treviso sinistro alto sopra la traversa. Poi l'iniziativa di Di Gaudio e l'autopalo di Cesar che sfiora l'autorete e sfiora il 2-0 per il Carpi. Passano 4 minuti e arriva il pareggio della Virtus Entella con la mischia che porta alla conclusione vincente rosso da 0 metri. Tocco in mischia per il neoentrato della Virtus Entella. Le rete del pareggio al minuto 63 e 1-1 ma il Carpi non ci sta con Bianco che ci prova dalla distanza. Un controbalzo destro che termina lontano dalla porta di Paroni. Insiste il Carpi con l'azione sulla corsia di destra. Pallone raccolto da Cabin sul lato opposto del campo. Cerca spazio per il cross Cabin. Lo trova la zampata di Ferretti con il pallone alto di poco sopra la traversa. A 10 minuti dal novantesimo è pericolosissima la Virtus Entella con la conclusione di Staiti e il volo di Sportiello che toglie il pallone dall'incrocio dei palli. Strepitosa risposta del portiere del Carpi. Finale solo Biancorosso, novantunesimo con arma in contropiede, pallone sul fondo. Passano due minuti, pallone sulla corsia di destra per Cortesi che mette in mezzo per Cabin. Conclusione debole, deviata da Paroni in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del tiro della bandierina non ci sono esiti per il Carpi e 1-1 a Chiavari tra Carpi e Entella. Grazie a tutti.